di Domenico ci sei? Eccolo qui, eccolo qui. Ricordiamo un saluto, un abbraccio caro Mimmo, caro Domenico. Ora c'è c'è qualcosa per te da dire eh? Perché una buona volta bisogna dirle, non ti preoccupare in positivo. E io vorrei salutare Antonio Fontana che è in regia e non è una cosa anomala. È in silenzio e non appare nemmeno in in video. Perché? Perché sta passando un momento, sta vivendo, ha deciso di passare un momento, poi decidere lui quanto tempo sarà, di introspezione. Quindi nel silenzio. Non è una cosa di cui mi stupisco perché anche io, anzi, ho fatto tra virgolette peggio di lui. Peggio è una battuta chiaramente. Mi sono assentato dalla radio per vari motivi, ma i motivi non sono importanti. È importante che nella vita poi si decide di fare quello che si sente. Siccome questa radio è un radio che parla anche di risveglio, anche di energia, anche di anima, anche di spiritualità, che non c'entra niente con le religioni, praticamente sappiamo che il silenzio, cioè abbiamo un dottore qui, un medico, un grande ricercatore, che il silenzio è anche un'ottima medicina alcune volte nella nostra vita. Tutti quanti vorremmo stare più in silenzio e parlare di meno, ma se il dottor Biscardi parla così tanto c'è il motivo che vi potete immaginare. Allora io vorrei ringraziare quindi ancora Antonio Montana che è lì in in regia e poi vorrei ringraziare ancora una volta Domenico Biscardi, dottor Biscardi e ricordare per chi non lo conoscesse chi è, è dottor Biscardi, è un ricercatore, medico, anatomopatologo, ultrasonologo, biomedico, farmacologo e tanto 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 grazie a tutti.